Ciao ragazzi, benvenuti a un crimine al giorno dal Teo Crackapart per l'11 marzo, un crimine che come avete visto io ho definito dal titolo un crimine cagionato da un prete assatanato, ovviamente è un po' un titolo clickbait, però effettivamente è un altro crimine poco conosciuto ma decisamente rilevante nella storia italiana. Si tratta di un ragazzo che fin dal seminario ha patito un grande sentimento emotivo e importante nei confronti di una ragazza che conosceva fin da quando era adolescente e questa cosa ha provocato un disastro totale. Andiamo a vedere la scheda, si tratta del 11 marzo 1911, il luogo è una casa a Monteflavio, ovvero la casa di Don Filippo Romani che sentiva insomma questo sentimento fin da quando era in seminario per la sua Emma Petrucci Ianni e non era riuscito a sopportare che Emma avesse trovato marito, che si fosse staccato, che avesse in qualche maniera allentato le comunicazioni con quel sacerdote che si era fatto addirittura assegnare a Monteflavio nella parrocchia per poter stare vicina ad Emma e infine bruciante di passione aveva invitato l'11 marzo 1911 alla sera per un consulto Emma che si è trasformato in una richiesta di amore incondizionato, di lasciare il marito, di fuggire via insieme e nel momento in cui evidentemente è stato colto da un rifiuto da parte di Emma Petrucci Ianni di anni 26, la vittima di questo caso ha pensato di squarciare la gola del suo amore con un coltello e finire il corpo con colpi di pistola calibro 22 e ovviamente poi pensando che nessuno, il mondo, la considerazione, la chiesa, tutto ciò che aveva intorno avrebbe potuto capire il suo atto ha pensato bene che forse solamente il suo dio potesse capire tale atto e si è suicidato sul luogo non potendo quindi essere imputato per il suo crimine terrificante lui 28 anni, lei 26, sicuramente ci sarebbe da considerare qualcosa in relazione a quelle che sono le regole fin troppo strette indipendentemente dall'accesso e dalla vicinanza che ognuno ha con la chiesa quelle regole fin troppo strette relative al matrimonio o comunque alla compagnia che tanto poi vengono cercate nella realtà e in alcuni casi producono anche risultati di questo genere questo è il crimine un caso chiuso per l'undici marzo mille e novecento undici come al solito ci vediamo domani con il prossimo un crimine al giorno con il teo qualche parte su qualche parte youtube la botteguccia dei sicili grazie a tutti